Bel pareggio, un bel pareggio fra due squadre che si sono rispettate ma se ne sono date. L'Inter poteva vincere a un certo punto con rigore, il primo tempo l'ha fatto tutto in attacco, il primo tempo ma anche il secondo tempo l'ha fatto molto in attacco, dopo la parte finale il Milan è uscito. Io ero convinto che l'Inter prendesse il gol perché ha soffocato davvero, il Milan ha soffocato l'Inter negli ultimi 15-20 minuti, però tutto sommato visti i 90 minuti, secondo me il pareggio è giusto. Dopo un pareggio che fa benino a tutte e due squadre, certamente al Milan fa molto bene perché mantiene l'Inter a 7 punti di distacca e questo è tanto, non gli ha dato il colpo di grazia perché quello sarebbe stato il colpo di grazia, però i 7 punti sono tantissimi. L'Inter tutto sommato capisce di essere una squadra forte, capisce di essere una squadra che può lottare per lo scudetto e questo vuol dire essere almeno fra le prime tre, perché questo a un certo punto quello che dice la classifica è questo per l'Inter, di mantenersi tra le prime tre e dopo vedere, spendere certe pedine. Adesso ci sarà Inter-Napoli dopo che c'è questa bellissima sosta. Quindi ancora il campionato è il momento in cui il campionato dirà tanto, ancora deve giocarsi Milan-Napoli, ci sono tante cose ancora da vedere in questa prima fase del campionato. La prima fase del campionato finisce qua. Adesso inizia la seconda, La Pancia, con tante partite. Dopodiché ci sarà la fase finale con le volate Europa, le volate Scudetto, le volate per la zona di retrocessione, ma la prima parte finisce assolutamente qua. E infatti vi dico, domani farò il punto sul campionato e vi racconterò quello che secondo me è il campionato in questo momento. È molto, molto interessante quello che sta succedendo. Giocatori, per quanto riguarda il Milan, ovviamente Tatarusano, ottimo, veramente ottimo. Ha preso il gol solo sul rigore, uno l'ha parato, il resto è sempre stato, ma anche Andanovic. Comunque, ottimo a Tatarusano, bene Tomori, benissimo Kier. Centrocampo, sì, Tonali va bene, che sì, non mi è sembrato alla sua migliore giornata. In attacco Ibra ha fatto qualcosa, ma non tanto. Rebic, Leao non mi è piaciuto, Leao assolutamente non mi è piaciuto. Rebic invece molto bene come entrato in partita. Da zona Inter invece Andanovic, la difesa mi è piaciuto. De Vrij ha fatto l'autogol, Skriniar, non è stata una difesa alla grande, grande, grande. Però Barella, molto, molto, molto bene Barella. A me è piaciuto Lautaro. A me Lautaro non è dispiaciuto, è mancato il guizzo, ma là davanti fra Lautaro e Zeco. Lautaro ha toccato più palloni, ha fatto più cose, diciamo. Bene anche Benino, anche Perisic. Non mi è piaciuto Brozovic. Molto bene ce l'ha Noglu. Molto, molto bene ce l'ha Noglu. Forse non è le più belle partite con l'Inter fino adesso. L'Inter è una squadra massiccia, bella solida, anche il Milan lo è. Adesso l'Inter deve fare l'impresa con lo Shakhtar, prendere i tre punti e praticamente passare il turno. E devo vedere quello che succede. C'è anche una Supercoppa da giocare con la Juventus, c'è anche una Coppa Italia. Perché lo Scudetto lo vedo andare verso l'altra parte di Milano. Napoli che ho già pareggiato e l'avevo detto anche quello. Praticamente io ho indovinato tutto. Ho indovinato tutti i pronostici che ho fatto, tranne uno credo. Quindi credo, credo 9 su 10. Avevo detto del Napoli che pareggiava, dell'Inter che e del Milan che pareggiavano con meno di tre gol. Infatti 1 a 1. Beh, tanta roba. Perché è un periodo un po' di stanca. L'avevo visto in tutte e tre le big. Un po' di stanca e ci sta pure il pareggio. A livello anche statistico ci stanno queste cose. Detto questo ragazzi, domani abbiamo punto sul campionato. Dopo il punto sul campionato magari faccio un video su... C'è Mourinho. Io non ce la faccio più. Cioè io sto diventando peggio dei romanisti per quanto riguarda la Roma. Sto seguendo la Roma più di quanto sto seguendo l'Inter. Perché a me sta storia di sto casino con Mourinho, quello che fa, quello che non fa, a me non lo so. Ne parlerò domani e faremo i discorsi domani. Dopo che c'è una sosta ci prendiamo un po' di calma, di fare video, forse. Forse, forse. Comunque ragazzi, iscrivetevi perché il video è mattutino, quello lo farò sempre. Ci mancherebbe. Iscrivetevi. Campanella. Se siete già iscritti mettete la campanella. Like. Commentate. Leggo tutti i vostri commenti. Ho visto i video che hanno fatto per quanto riguarda Mourinho. Incomincia. Io adesso, davvero, finisce con Inter e Milan. L'ultima, così, postilla per quanto riguarda il Mourinho, la giornata di Mourinho. Molti romanisti incominciano a capirlo. L'ho visto dagli youtuber. Youtuber che fino a uno o due settimane fa lo difendevano a spada tratta. Bah, non se ne parla. Mourinho incominciano. E adesso che fatti lamenti. E adesso che te... E che fatti lamenti adesso. Mo te va a lamentà. Quindi lo sentono pure loro. Incominciano a sentire pure loro questa anomalia. Detto questo, ragazzi, bel derby. Ci vediamo domani. Punto sul campionato domani. Ragazzi, mi raccomando. Ciao, ciao. Ciao.